Ma non c'è dubbio che l'emozione c'è, io intanto sono di questo territorio, Gran Michele ha un tiro di schioppo si può dire da Caltagirone e qua io ho parenti e amici carissimi e qui ho cominciato a far politica in questo territorio, nella democrazia cristiana che a tutti gli effetti fu l'erede del partito fondato proprio da Luigi Sturzo e francamente è benemerita l'iniziativa dalla fondazione di Vincenzo e di Salvatore Martinez nell'avere in occasione del cinquantenario il 2009 rilanciato con un convegno internazionale la figura di Sturzo, il suo pensiero, la sua opera e poi aver ripristinato questi locali del fondo, la casa del fondo Sturzo che era cadente sarebbe stato un peccato ora è qualcosa di meraviglioso nella campagna di Caltagirone, peraltro era stata donata alla diocesi di Piazza Armerina che l'ha resa perché la fondazione potesse restaurare la sede e potesse coltivare il fondo peraltro affidando il tutto a detenuti che possono essere reinseriti socialmente e poi stamattina la casa di Sturzo, la sua immensa biblioteca, gli ambienti nei quali dal letto allo studio da quant'altro egli ha vissuto quando qui nacque a Caltagirone, qui fece l'amministratore qui fondò riviste, giornali, qui portò la luce elettrica, abbiamo visto c'era un opuscoletto anche su questo le cose straordinarie di quest'uomo che nell'arco degli anni della sua vita ha lasciato un'opera sterminata ma soprattutto un esempio di coerenza portata fino alle estreme conseguenze dell'esilio che serve ad un cattolico che vuole integralmente e coerentemente impegnarsi in politica Quanto è attuale il pensiero sturziano? È sempre attuale questo della grande coerenza di un cattolico che vuole impegnarsi in politica per dare tutto se stesso e per rendere un servizio a tutti, a chi ne ha più bisogno in maniera particolare parlare delle tante cose che furono alla radice del partito popolare, del suo programma, della sua natura e della sua natura richiederebbe tanto tempo Io mi auguro che soprattutto i giovani che sono alla ricerca di modelli per una nuova politica di cui oggi si sente un enorme bisogno possono guardare al sacerdote di Caltagirone perché credo che ci siano pochi esempi ai quali guardare trovandovi altrettanta quantità e qualità di insegnamenti e di pratica Grazie Grazie Grazie